Ancora voi, vi avevo detto di tornare domani. Abbiate la compiacenza di aggiungere questo manoscritto. Tu che la vanità stessa impallidisce al tuo passaggio. Tu adesso blatteri di santi, di madonna e di messaggi. Ma padre... Tu sai di che cosa stai parlando? La vocazione è ovunque. Va dove ti piacerebbe andare. San Gabriele. Un santo che non ha ancora fatto miracoli. Che santo. Lunedì alle 20 e 55. Oddio, dammi il coraggio di capire la tua volontà.